Annabeth. La nuova guerra civile era iniziata. Leo era riuscito in qualche modo a uscire indenne dalla caduta. Annabeth lo vide correre a ripararsi di portico in portico, sparando proiettili di fuoco alle aquile giganti che lo attaccavano in picchiata. I semidei romani cercavano di inseguirlo, inciampando su mucchi di palle di cannone e schivando i turisti, che strillavano e scappavano in cerca di un rifugio. Le guide turistiche continuavano a gridare «è solo una recita!», ma non sembravano molto convinte. La foschia non poteva fare più di tanto per cambiare la visione dei mortali. In mezzo al cortile, un elefante adulto, Frank, si impennava tra le bandiere, sparpagliando guerrieri romani. Jason era a una cinquantina di metri di distanza e duellava con un centurione robusto e dalle labbra macchiate di un rosso ciliegia simile a sangue. Un aspirante vampiro o un fanatico della bibita superfresh? «Scusami tanto, Dakota!», gridò il figlio di Giove, mentre superava con una capriola il centurione e lo colpiva sulla nuca con l'elsa del Gladius. Dakota si accasciò a terra. «Jason!», chiamò Annabeth. Lui perlustrò con lo sguardo il campo di battaglia, finché non la vide. Annabeth indicò il punto in cui era ormeggiata a largo due. «Conduci gli altri a bordo! Ritirata! E tu? Non mi aspettate!» La figlia di Atena sfrecciò via prima che Jason potesse protestare. Ebbe parecchia difficoltà a farsi largo in mezzo alla folla di turisti e si chiese perché tanta gente volesse visitare Fort Samter in un pomeriggio estivo a foso come quello. Poi, però, si rese conto che i turisti li avevano salvato la vita. Senza il caos di tutti quei mortali nel panico, i romani li avrebbero già circondati. Annabeth si infilò in una guarnigione del forte. Cercò di ricominciare a respirare normalmente. Immaginò di essere come un soldato nordista nel 1861. Circondato dai nemici, cibo e rifornimenti sempre più scarsi, nessun rinforzo in arrivo. Alcuni di quei nordisti erano figli di Atena. Avevano nascosto lì una mappa importante, qualcosa che non volevano cadesse in mani nemiche. Se lei fosse stata al posto loro, dove l'avrebbe messa? All'improvviso le pareti scintillarono. L'aria si fece ancora più calda. Annabeth si chiese se stesse avendo le allucinazioni. Stava per correre verso l'uscita, ma la porta della guarnigione si chiuse all'improvviso. La malta tra le pietre si gonfiò di bolle e quando queste scoppiarono, migliaia di minuscoli ragni neri si riversarono nella stanza. Annabeth non riusciva a muoversi. Fu come se le si fosse fermato il cuore. I ragni rivestivano le pareti, brulicavano l'uno sopra l'altro e dilagavano sul pavimento, circondandola poco a poco. Ma era impossibile! Non poteva essere reale. Il terrore la scaraventò indietro nel tempo, tra i ricordi. Aveva di nuovo sette anni, era sola nella propria stanzetta Richmond, in Virginia. I ragni vennero di notte, brulicarono fuori dall'armadio a ondate e si misero ad aspettarla tra le tenebre. Lei strillò per chiamare il padre, che però era via per lavoro. Era sempre via per lavoro, le sembrava. Al suo posto arrivò la madrigna. «Non mi dispiace fare la parte della cattiva», aveva detto la donna al marito una volta in cui pensava che lei non li sentisse. «È solo la tua immaginazione», le disse quella sera a proposito dei ragni. «Così spaventerai i tuoi fratellini». «Non sono i miei fratellini», protestò Annabeth. L'espressione della madrigna si indurì. I suoi occhi facevano paura quasi quanto i ragni. «Torna a dormire», insistette la donna. «Non voglio sentire altre urla». I ragni tornarono, non appena la madrigna lasciò la stanza. Annabeth cercò di nascondersi sotto le coperte, ma era inutile. Alla fine si addormentò per sfinimento. Si svegliò il mattino dopo coperta di punture, con filamenti di ragnatela sugli occhi, sulla bocca, sul naso. Le punture scomparvero prima ancora che lei si vestisse, perciò aveva solo le ragnatele da mostrare alla madrigna. La donna pensò che fosse solo un trucco. «Non voglio più sentir parlare di ragni», le disse in tono fermo. «Ormai sei grande». La notte dopo, i ragni tornarono. La madrigna continuò a recitare la parte della cattiva. Proibì ad Annabeth di chiamare il padre per disturbarlo con quelle sciocchezze, e le ricordò che comunque lui non sarebbe tornato presto. La terza notte, Annabeth scappò di casa. In seguito al campo mezzosangue, aveva saputo che tutti i figli di Atena hanno paura dei ragni. Molto tempo prima, Atena aveva impartito una dura lezione alla tessitrice mortale, Aracne, maledicendola per il suo orgoglio e trasformandola nel primo ragno. Da allora i ragni odiavano tutti i figli di Atena. Ma ciò non significava che per Annabeth la paura fosse più facile da gestire. Una volta aveva quasi ucciso Connor Stoll perché le aveva messo una tarantola nel letto. Anni dopo aveva avuto un attacco di panico a Denver, quando era stata aggredita dai ragni meccanici. E nelle ultime settimane aveva sognato i ragni quasi tutte le notti. Ragni che le brulicavano sul corpo, che la soffocavano, che la avvolgevano con le loro tele. In quel momento, nella guarnigione del forte, era circondata. I suoi incubi erano diventati realtà. Una voce sonnolenta mormorò nella sua testa, «Presto, mia cara!» «Incontrerai presto la tessitrice!» «Gea!» mormorò Annabeth. Temeva di conoscere la risposta, ma domandò lo stesso «Chi è la tessitrice?» I ragni si eccitarono nel sentire quel nome e si agitarono sulle pareti, muovendosi come un vortice nero e lucido ai piedi della ragazza. Solo la speranza che fosse un'illusione permise ad Annabeth di non svenire dalla paura. «Spero che tu riesca a sopravvivere, figliola. Preferirei averti come mio sacrificio. Ma dobbiamo concedere alla tessitrice la sua vendetta!» La voce di Gea scomparve. Sul muro di fronte, al centro del mare di Ragni, un simbolo rosso si accese all'improvviso. Una civetta come quella raffigurata sulla dracma d'argento stava fissando Annabeth. Poi, proprio come nei suoi incubi, il marchio di Atena incendiò le pareti bruciando i ragni, finché l'unica cosa che rimase nella stanza non fu l'odore dolciastro e nausabondo delle loro ceneri. «Vai!» disse una nuova voce, quella di Atena. «Segui il marchio. Vendicami!» Il simbolo infuocato della civetta si spense. La porta della guarnigione si spalancò. Annabeth rimase immobile, sbigottita, al centro della stanza, a chiedersi se aveva appena avuto una visione o se era stato tutto reale. Un'esplosione scosse l'edificio. Annabeth ricordò che i suoi amici erano in pericolo. Era rimasta lì per troppo tempo. Si costrinse a muoversi. Ancora tremante corse fuori. L'aria dell'oceano la aiutò a tornare lucida. Spinse lo sguardo in fondo al cortile, oltre i turisti spaventati e i semidei nemici, fino al margine delle merlature, dove un grande mortaio puntava verso il mare. Forse era la sua immaginazione, ma il vecchio pezzo d'artiglieria sembrava soffuso di un bagliore rosso. Annabeth si lanciò da quella parte. Un'aquila cercò di ghermirla, ma lei riuscì a evitarla e continuò a correre. Niente avrebbe potuto spaventarla come quei ragni. I semidei romani avevano serrato i ranghi e stavano avanzando verso Largo due, ma una tempesta in miniatura si era formata sopra le loro teste. Anche se la giornata era serena, si sentì il rombo di un tuono, e i fulmini scoppiarono sopra i romani. Scrosci di pioggia e raffiche di vento li costrinsero ad arretrare. Annabeth raggiunse il mortaio e infilò la mano nella bocca del cannone. Sul tappo che bloccava l'apertura brillava il marchio di Athena, il profilo rosso di una civetta. «Nel mortaio!» disse a voce alta. «Ma certo!» Cercò di tirare via il tappo. Niente da fare. Imprecando, estrasse il pugnale. Non appena il bronzo celeste lo toccò, il tappo cedette. Annabeth lo levò e ficcò la mano dentro. Le sue dita sfiorarono qualcosa di freddo, levigato e metallico. Estrasse un piccolo disco di bronzo delle dimensioni di un piattino da tè, con delicate incisioni sopra, lettere e illustrazioni. Decise di esaminarlo in seguito. Lo mise nello zaino e si voltò. «Vai di fretta!» le chiese Reina. Era a tre metri da lei, in armatura completa, e impugnava un giavellotto d'oro. I due levrieri di metallo ringhiavano al suo fianco. Annabeth perlustrò tutta l'area intorno. Erano sole, più o meno. Gli altri romani si erano spostati verso il molo. Sperò che i suoi amici fossero riusciti a raggiungere la nave. Dovevano salpare subito, o rischiavano la sconfitta. E lei doveva sbrigarsi. «Reina!» esordì. «Quello che è successo al campo Giove è stato colpa di Gea. C'erano degli Eidolon, spiriti che si sono impossessati di...» «Risparmiati le spiegazioni!» la interruppe Reina. «Ti serviranno per il processo!» I cani ringhiarono e fecero qualche passo avanti. Non sembravano interessati alla verità delle parole di Annabeth. Lei cercò di pensare rapidamente a un piano di fuga. Dubitava di poter battere Reina in un duello. E con quei due cani di metallo non aveva nessuna possibilità. «Se permetterai a Gea di dividere i nostri campi! I giganti hanno già vinto!» protestò. «Distruggeranno i Romani, i Greci, gli dèi e tutto il mondo mortale!» «Pensi che io non lo sappia?» La voce di Reina era dura come l'acciaio. «Che scelta mi hai lasciato?» Ottaviano sente già l'odore del sangue. Ha aizzato l'intera legione e io non posso fermarlo. «Consegnati a me. Ti porterò a Nuova Roma per un processo!» «Non sarà un processo giusto. Sarai condannata a una morte dolorosa!» «Ma forse basterà fermare le violenze. Ottaviano non sarà soddisfatto, naturalmente, ma credo di poter convincere gli altri a soprassedere.» «Non sono stata io! Non ha importanza!» sbottò Reina. «Qualcuno deve pagare per quello che è successo. Lascia che sia tu. È l'opzione migliore.» Annabeth si sentì accapponare la pelle. «Migliore rispetto a cosa?» «Usa la saggezza di cui dovresti essere piena», replicò Reina. «Se oggi fuggite, non vi seguiremo.» «Te l'ho già detto, nemmeno un pazzo attraverserebbe il mare fino alle antiche terre. Se Ottaviano non può vendicarsi sulla vostra nave, rivolgerà la propria attenzione al Campo Mezzosangue. La legione raderà al suolo il campo e spargerà il sale sulla terra.» «Uccidi i romani!» disse la voce pressante di Atena nella testa della figlia. «Non potranno mai essere tuoi alleati.» Annabeth avrebbe voluto singhiozzare. Il Campo Mezzosangue era l'unica vera casa che avesse mai conosciuto e lei, impegno d'amicizia, aveva svelato a Reina dove si trovava. Non poteva lasciarlo alla mercè dei romani e andarsene dall'altra parte del mondo. Ma la loro impresa e tutto quello che aveva sofferto per riavere persi, se non fosse andata nelle antiche terre, tutto sarebbe stato vano. E poi il marchio di Atena non doveva condurre per forza di cose alla vendetta. «Se solo io riuscissi a trovare la rotta», aveva detto sua madre, «la strada di casa.» «Come userai la tua ricompensa?» aveva chiesto a Frodite. «Per la guerra o per la pace?» Una risposta c'era e il marchio di Atena poteva condurla fin là. Lei doveva solo sopravvivere. «Io vado», annunciò Annabeth. «Seguirò il marchio di Atena fino a Roma.» Reina scosse la testa. «Non hai idea di che cosa ti aspetta.» «Sì, invece», replicò Annabeth. «E troverò il modo di sanare l'astio che c'è tra i nostri due campi.» «L'astio di cui parli ha migliaia di anni.» «Come puoi porvi rimedio da sola?» Annabeth avrebbe voluto darle una risposta convincente, mostrarle uno schema in 3D o un piano brillante. Ma non poteva. Sapeva solo di dover tentare. Ricordava l'espressione smarrita sul volto di Atena. «Devo tornare a casa.» «L'impresa deve avere successo», disse. «Puoi cercare di fermarmi, nel qual caso combatterò fino alla morte. O puoi lasciarmi andare e proverò a salvare entrambi i campi. Se ti vedrai costretta a marciare verso il campo mezzosangue, tenta almeno di ritardare la guerra il più possibile.» «Rallenta Ottaviano.» Reina socchiuse gli occhi. «Da figlia di una dea della guerra a un'altra, rispetto la tua audacia. Ma se parti ora, condanni il tuo campo alla distruzione.» «Non sottovalutare il campo mezzosangue», la mise in guardia Annabeth. «Non hai mai visto la legione in guerra», ribatte Reina. Giù al molo, una voce familiare urlò nel vento «Uccideteli! Uccideteli!» Ottaviano era sopravvissuto alla nuotata nel porto. Accovacciato dietro le guardie, lanciava grida d'incitamento agli altri semidei romani, che cercavano di avanzare verso la nave, sollevando gli scudi, per deviare la tempesta che infuriava intorno a loro. Sul ponte del Largo Due, Persi e Jason erano fianco a fianco, a spade incrociate. Con un brivido lungo la schiena, Annabeth si rese conto che i ragazzi stavano combattendo come un solo uomo, ordinando al cielo e al mare di eseguire i loro comandi. Acqua e vento turbinavano insieme. Onde si abbattevano contro i bastioni del forte e fulmini scoppiavano nel cielo. C'erano aquile giganti a terra, mentre le macerie della biga bruciavano ancora, affiorando sulla superficie del mare. Edge puntava la balestra e sparava a casaccio contro le aquile rimaste in volo. «Alea iacta est», commentò Reina amaramente. «Il dado è tratto. La nostra gente è in guerra.» «Non è detto!» «Posso farcela», replicò Annabeth. L'espressione sul volto di Reina era simile a quella che aveva al campo Giovi, quando si era resa conto che Jason aveva trovato un'altra ragazza. Era troppo sola, si sentiva troppo amareggiata e tradita, per credere che qualcosa potesse mai più andare bene. Annabeth rimase in attesa del suo attacco. Invece Reina mosse la mano in un gesto veloce. I cani metallici si fecero indietro. «Annabeth Chase, quando ci incontreremo di nuovo? Saremo nemiche sul campo di battaglia!» Quindi si voltò e si allontanò lungo i bastioni, seguita dai levrieri. Forse era un trucco, ma Annabeth non aveva tempo per riflettervi. Corse verso la nave. I venti che spazzavano i romani non la sfiorarono nemmeno. Attraversò la linea del nemico, come un fulmine. «Fermatela!» strillò Ottaviano. Una lancia volò a pochi centimetri dall'orecchio della ragazza. Largo Due si stava già staccando dal molo. Piper l'aspettava sulla passerella con la mano tesa. Annabeth la raggiunse con un salto e vi si aggrappò. La passerella cadde in mare e le due ragazze ruzzolarono sul ponte. «Via!» gridò la figlia di Atena. «Via, via, via!» I motori rombarono sotto i suoi piedi. I remi rotearono con forza. Jason cambiò il corso del vento e Persi evocò un'onda gigantesca che sollevò la nave più in alto delle mura del forte e la spinse in mare aperto. Quando Largo Due raggiunse la massima velocità, Fort Sumter era solo una macchiolina alle loro spalle. Ormai sferecciavano verso le antiche terre, sulla cresta delle onde.